Salve, sono Marco e sono project leader e game designer del progetto Paradox. Ciao a tutti, sono Ivan Crusco, sono un developer e level designer all'interno del team di Paradox. Ciao, sono Riccardo, sono l'art director di Paradox e state guardando il video di presentazione del team Rewind Studios. Ciao, sono Umberto e ho partecipato allo sviluppo di Paradox come developer. In particolare mi sono occupato dell'implementazione dell'interfaccia grafica e delle rifiniture dei menu di gioco. Ciao, sono Matteo e sono 2D artist e UX designer del progetto Paradox. Ciao, sono Roberto Camarda e in Paradox mi sono occupato di tutta la parte sonora. da musica ad effetti e quant'altro. Ciao, sono announcements. Grazie a tutti.